buongiorno ragazzi eh buongiorno a tutti mi raccomando non date soldi a quel personaggio che eh a breve denunceremo anche per frode perché comunque vengono date notizie false e vengono millantate conoscenze che non ha e noi lo possiamo dimostrare tra l'altro sono state avvisate persone con cui loro dicono di uscire a cena a pranzo e quant'altro tra l'altro sentitevi sappiate che dare dei soldi a quel personaggio gli fate solamente del male e se avete i soldi da buttare con chi froda come loro ricordatevi una cosa io l'ho sempre detto da quando ho aperto il canale e chi mi segue lo sa ora usano donazioni di sangue tra l'altro fanno donate il sangue poi nella giornata del donatore non la citano nemmeno perché dicono donate il sangue solo per passare bene lo vedi che non ci credono non gliene frega nulla loro sono felici se gli fate donazioni non sei andato a donare il sangue invece di dire sono felice sei andato a donare il sangue ti dicono sono siamo felici se ci date i soldi brutti coglioni quello vi stanno dicendo perché vi danno anche dei coglioni a voi avete dato i soldi non date i soldi a quella gente che froda perché ne vedremo delle belle a breve provare per credere perché ora è l'ora di finirla avete dei so vi avanzano dei soldi dateli ad un gattile ad un canile l'appello disperato del gattile di empoli dell'associazione aristogatti vi metterò il link in descrizione siamo indebitati allo stremo servono risorse o sarà la fine sapete benissimo che io amo i cani amo i gatti amo tutti gli animali e le donazioni devono essere segrete cioè non è che uno dona un canile un gattile lo va a sperperare 420 non vengo qua con lo scontrino a farvi vedere quanti soldi dono ai gattili o ai anili bisogna fare le donazioni in silenzio spese alle stelle gli aiuti ormai non bastano più il gattile di empoli provincia di firenze la lettera a cuore aperto dell'associazione aristogatti abbiamo bisogno anche di nuovi volontari non possiamo più andare avanti così dischiamo la chiusura quindi se volete donare qualcosa vi metto il link del gattile di empoli empoli è un paese per la provincia di firenze dove potete fare una donazione invece di dare i soldi a quel cialtrone spara minchiate a che deve chiudere il canale quello lì boom boom ci vedo poco però nelle ultime ore nelle ultime ore sta venendo fuori sempre di più cresce 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 la voce che comunque kim possa muoversi in prestito dal buyer monaco ora io ti dico come la vedo è una mia impressione non ho la sfera di ristallo e nemmeno sono un professore del calcio io sono un tifoso come voi a noi dietro manca velocità manca uno che sappia scappare all'indietro e kim è perfetto è la scelta numero uno per me è quello che prenderei è il primo della lista perché è feroce sull'uomo è un animale bravo nello scappare all'indietro con i piedi si difende bene solo è andato al bayern e non ci ha capito nulla ci ha capito poco non si è trovato bene non si è ambientato ha avuto problemi con la lingua con il cibo ci sta guarda scrigni era il pari san germain e che abbia fatto un gran che in italia era il miglior il miglior difensore del campionato italiano qualora ci fosse la possibilità di prendere kim al volo perché sembra che il bayern lo possa dare anche in prestito un'operazione tipo la pavar parliamoci chiaro perché buongiorno era impossibile perché cairo vuole 40 milioni e l'inter 40 milioni non ce l'ha ma un'operazione in prestito eh parliamo di tutt'altra operazione kim è veloce scappa all'indietro è forte sull'uomo come ho detto prima è feroce è il difensore che manca a noi magari magari kim mi sembrava una volata però vedo nelle ultime ore questa voce comunque visto anche gli ottimi rapporti tra il bayern e l'inter sembra si possa mettere in piedi un'operazione con prestito alla pavar prestito e obbligo insomma alla frattesi chiamala come ti pare io ieri sera ragazzi io ieri sera come tanti di voi ho visto turchia olanda ma 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 che giocatore è danfis lasciate perdere le serpentine in avanti alla chimia e la cancello ma che giocatore è denzel ha una potenza una forza ha fatto un contrasto con c'è la l'ha fatto l'ha mandato a tre metri l'ha ribazzato agli ultimi minuti quando c'ha la prova a tirare dalla parte sinistra ma che difensore è denzel ma che assist fa e lo dico a quelli che lo ritiano te lo ho detto la settimana scorsa è un giocatore comunque i suoi assist li fa i suoi gol li fa e lui non ti preoccupare che a fine partita il suo lo fa sempre è un giocatore preziosissimo come devrai devrai io l'ho sempre detto qualche pecca in mancatura ma come giocatore non si discute e ieri ha fatto una dichiarazione importante devrai voglio rimanere al leader non vado da nessuna parte ma denzel ragazzi perché criticate denzel io quando vedo criticare denzel mi dispiace perché ci sono pochi esterni tutta fascia completi come lui ripeto non avrai piedi di achimi di cancello ma te devi guardare devi andare al di là delle serpentine e di saltare l'uomo e attenzione al ragazzino spagnolo che è paragonato a pichè con tutte le dovute cautele ci mancherebbe è un duemilasei alto un metro e novantatré spicca per personalità piedi buoni uscita palla fortissimo di testa vizetto del gol motivo per cui in spagna lo paragonano a pichè giuse ma perché non chiediamo non crediamo sui ragazzi italiani forse perché costano di più ti posso fare un nome pirola della serenitana io lo prenderei perché a me pirola piace è un giocatore su cui investirei per esempio che te lo riporti a casa con 5 6 milioni quindi c'è questa politica dei giovani che a me piace sinceramente a me piace io quello è comunque imputavo alzano e il fatto non ci potesse essere mai un progetto a me un progetto giovani piace giuse ma non ti incazzi per il mercato non mi incazzo perché siamo al sicuro non rischiamo più nulla con i cinese rischiamo rischiavamo grosso almeno una bozza di progetto lo so che non ci sono soldi ma oltre non investirà su un asset che deve rivendere il prima possibile ma almeno vedi una bozzettina di progetto vedi una bozzettina capito di serietà vedi una certa programmazione cose prima non esistevano vedi poi io mi accontento anche di poco ho sempre detto progetto comunicazione quante volte l'ho detto progetto e comunicazione sono queste le due cose che mancano all'inter e poi c'è la terza quattrini ma arriveranno anche quelli ma io te lo dico se ausilio e marotta riescono io la vedo difficile anche in prestito perché comunque a 7 milioni di ingaggio kim che poi ci sarebbe anche problema ingaggio ma sai su quello ci puoi lavorare ma se riescono a portare kim all'inter che è il mio preferito in assoluto stappo qualcosa di buono ci becchiamo dopo ciao inter grazie a tutti i